Ciò che è successo con Eldiverse 2 ha veramente dell'incredibile. Arrivato sul mercato lontano dalle luci dei riflettori, con pochissima attenzione da parte di stampa e pubblico, nel giro di pochissimi giorni ha fatto il botto. Chi lo stava giocando ha tirato dentro i propri amici, che hanno a loro volta tirato dentro altri amici, e il passaparola social ha fatto il resto. A farne le spese sono stati i poveri server messi in piedi da Arrowhead, collassati brutalmente sotto il peso di centinaia di migliaia di giocatori, vogliosi di portare la democrazia nell'universo, a suon di napalm e raggi laser. In pochi giorni Eldiverse 2 è diventato letteralmente virale, le sue clip hanno fatto il giro del web e le copie vendute sono aumentate di settimana in settimana, spinte da un passaparola che ha portato il gioco a vendere oltre 8 milioni di copie in poco più di un mese. La domanda quindi sorge spontanea, questo successo è meritato? Si tratta veramente di un gioco degno di tanta attenzione? O come più volte è accaduto in passato, Eldiverse 2 è l'ennesimo prodotto miracolato? Beh, nei prossimi minuti proverò a darvi la mia opinione dopo oltre 50 ore di gioco. Prima però vi comunico che ho da poco scoperto di avere un link da filiazione a Instant Gaming. Se foste interessati a comprare il gioco ad una trentina di euro, contribuendo anche a supportare il canale, lo trovate in descrizione. Proseguiamo. Se c'è una categoria di giochi sulla quale non faccio sconti quando devo dare un giudizio, è proprio quella degli shooter cooperativi. Non perché sia una tipologia di giochi che non apprezzi tutt'altro, ma perché è un genere che è stato brutalmente ucciso 15 anni fa e il carnefice, beh, lo conoscevi tutti e si chiama Left 4 Dead 2. Il capolavoro di Tartarrock e Valve, uscito nel 2009, è stato contemporaneamente l'apice e la morte degli sparatutto cooperativi, un titolo che ha sconvolto un genere hissando l'asticella qualitativa talmente in alto che tutti i giochi che sono venuti dopo e hanno provato a confrontarsi con lui ne sono usciti con le ossa rotte. Left 4 Dead riuscì a portare sui nostri schermi una formula che univa immediatezza e profondità in modo quasi miracoloso, rendendolo un gioco estremamente accessibile anche per i non videogiocatori, ma tremendamente ostico alle difficoltà più elevate. Non è mai più esistito uno shooter cooperativo che spingesse in modo così viscerale i giocatori a collaborare fra di loro, ponendose veramente chiunque volesse fare l'eroe di Staceppa giocando in solitaria. Se uniamo a questa formula già perfetta il Director, ossia quel sistema che modificava ogni partita rendendola a suo modo unica, possiamo capire perché a 15 anni dal lancio Left 4 Dead 2 continua a restare stabilmente fra i titoli più giocati su Steam, mentre tutti i suoi cloni, dopo pochi mesi, finiscono per scomparire. Ora vi starete chiedendo, Luca, ma perché ci parli di Left 4 Dead in un video su Eldivers? Semplice, perché Eldivers 2, nonostante non sia un suo clone, è il primo shooter cooperativo ad avermi dato le stesse sensazioni che provai col capolavoro valgo. A livello strutturale, infatti, si tratta di due titoli estremamente differenti. Uno in prima persona, l'altro in terza, uno in mappe strette e lineari, l'altro in zone ampissime con obiettivi principali e secondari da completare. Eppure le sensazioni che i due giochi regalano sono molto, molto simili. Cerchiamo di fare però un po' di ordine, altrimenti sto video diventa una giungla. E parto dalla narrativa, così ce la leviamo dalle scatole in fretta perché è praticamente inesistente. O quasi. La premessa del gioco è raccontata in un filmato di un minuto e mezzo realizzato con una CGI, a dir la verità, veramente notevole. L'umanità, unificata sotto la bandiera del democraticissimo governo della superterra, ha bisogno di valorosi soldati da spedire ai quattro angoli della galassia per portare la democrazia, annientando quelle luride bestiacce insettoidi e quei malvagi robot che minacciano lo stile di vita libero e prospero della razza umana. Si tratta, ovviamente, di una grandissima presa per il culo alle politiche imperialiste occidentali e soprattutto americane, con citazioni continue a Starship Troopers e un black humor che permea ogni pixel del gioco. Incuriosito dal mondo di Helldivers, poi, sono andato a documentarmi un po' sulla lore del gioco e le cose si sono fatte in realtà un po' più interessanti. Mentre scrivo, sono presenti due fazioni nemiche, i Terminidi e gli Automaton, e ognuna di esse, beh, ha le sue buone ragioni per non volerci molto bene. I Terminidi, infatti, sono una razza insettoide che durante la sua decomposizione rilascia una sostanza chiamata E710, che terrestri hanno scoperto essere molto utile come combustibile. Provate a leggerla al contrario, fra l'altro. Da bravi umani abbiamo quindi deciso di prendere questi insettoni, portarli su altri pianeti, creando dei veri e propri allevamenti intensivi. Peccato però che queste bestiacce non si siano rivelate molto accomodanti sul fatto di essere macellate e siano fuggite al controllo umano, infestando i pianeti e diventando improvvisamente nemiche della democrazia e dello stile di vita libero. La fazione degli Automaton, poi, mi ha fatto ancora più ridere. Si tratta di robottoni palesemente ispirati a Terminator, che sembra siano molto legati ai cyborg, ossia i nemici del primo Eldivers. Questi cyborg erano delle sorte di umani potenziati che lavoravano come operai schiavi nelle colonie della superterra e che in uno slancio bolscevico decisero di ribellarsi, prendere il possesso delle fabbriche e creare una società a tutti gli effetti comunista basata sulla condivisione. Al democraticissimo governo della superterra ovviamente la cosa non andava molto a genio e infatti nel primo Eldivers combattiamo e infine sterminiamo questi cyborg. Gli Automaton sembrano essere in qualche modo un loro lascito, tanto che usano gli stessi slogan e gli stessi simboli. Insomma, penso si sia capito, Eldivers 2, nonostante non abbia una storia in senso classico, è infarcito di critica sociale e ho apprezzato veramente tanto lo sforzo di inserire tutti questi dettagli quando ai fini dell'esperienza ce ne sarebbe stato veramente poco bisogno. Questo perché il punto forte, fondamentale, totalizzante del gioco è il gameplay e qui si vola altissimi. Eldivers 2, per chi non sapesse proprio di cosa sto parlando, è una sorta di extraction shooter a 4 giocatori senza la parte PvP. Si sceglie una missione, si viene sparati su una mappa discretamente ampia e si ha un determinato quantitativo di tempo e di respawn per completarla. Fine. La progressione è legata a varie tipologie di punti spendibili per sbloccare armi, armature, potenziamenti e stratagemmi. E qui inizia a venire il bello. La meccanica peculiare di Eldivers 2 è proprio quella degli stratagemmi, ossia dei supporti che è possibile richiedere dalla nostra nave che svolazza proprio nel cielo sopra di noi. E vi posso garantire che questi stratagemmi fanno godere come mandrilli. Si va dall'invio di armi pesanti, al lancio di torrette, a bombardamenti a tappeto che manco gli americani nel Vietnam, finendo con raggi laser della morte in grado di sciogliere decine di nemici in pochi secondi. Qui viene fuori la vera anima di Eldivers 2, quella di un gioco incredibilmente spettacolare da un punto di vista scenico ma allo stesso tempo molto tattico, dove bisogna usare il cervello e coordinarsi con i propri compagni di team, specie alle difficoltà più elevate. Sono infatti presenti 9 livelli di difficoltà e se nei primi si può tranquillamente andare a pascolare ad occhi chiusi, salendo le cose diventano al limite dell'infame. Non tanto perché le missioni si fanno più lunghe e complesse, quanto perché saltano fuori nuove tipologie di nemici sempre più colossali e corazzati, ma soprattutto perché il loro numero diventa soverchiante. Con il mio gruppo di amici siamo arrivati al momento a giocare a livello 7 e vi posso garantire che scendere sui pianeti senza aver acceso il cervello vuol dire finire maciullati nel giro di pochi minuti. All'inizio di ogni missione infatti c'è da scegliere il proprio loadout e ogni giocatore può equipaggiare al massimo 4 stratagemmi che vanno valutati molto bene. Bisogna chiedersi che fazione si sta affrontando, che tipo di missione bisogna fare, in quale bioma, chi si occuperà di abbattere i nemici corazzati e chi invece di lanciare napalm sugli schifi di saltellanti. La pianificazione prima di lanciarsi sul pianeta è fondamentale e lo è altrettanto muoversi bene una volta in mezzo alle orde nemiche. In primis perché ogni stratagemma ha un cooldown che va da pochi secondi a qualche minuto e quindi non può essere abusato, in secondo luogo perché le bombe cadono e chi prendono prendono. Se volete giocare al Divers 2 mettetevi nell'ordine di idee che creperete di continuo e che spesso a farvi esplodere in tanti piccoli pezzettini sarà un vostro compagno di squadra. Il fuoco amico è infatti una meccanica integrante del gioco, i bombardamenti colpiscono indistintamente tutto ciò che si trova a portata ma anche le torrette automatiche che mirano i nemici se ne fregano se in mezzo c'è un giocatore. Questo porta a momenti indescrivibili quando si gioca con dei cumpà in chat vocale, con bestemmioni che volano a ovice verso l'infame di turno che decide di richiamare una bomba da 500 kg di tritolo senza prima aver detto agli altri di allontanarsi. È quindi fondamentale la comunicazione fra compagni di squadra, andare in giro da soli equivale a morte certa anche perché l'altra meccanica particolare di al Divers 2 è legata proprio al modo in cui si richiamano gli stratagemmi. Ogni supporto è infatti legato a un codice, ossia un elenco di comandi da premere in sequenza. E se per alcuni si tratta di 3-4 tasti, per gli attacchi più devastanti o le armi più potenti si arriva anche a una decina e se si viene colpiti e storditi mentre si sta digitando bisogna ripetere da capo la combo. Certo quando si prende la mano in un paio di secondi si digitano anche i comandi più lunghi, ma avere dei compagni vicini che ti diano un po' di copertura fidatevi che aiuta tantissimo. In questo mese e mezzo di nerdate, Eldivers 2 è stato realmente in grado di regalarmi momenti di una coesione unica quasi indescrivibile. Arroccarsi su un promontorio aspettando l'estrazione, cercando di coordinare i bombardamenti per sbarrare la strada alle orde e non essere soverchiati, oppure ritrovarsi a fuggire da un esercito di robot incazzatissimi mentre ci si ferma a turno per coprire la ritirata, sono momenti frequentissimi in Eldivers e nonostante siano molto diversi da quelli che propone Left 4 Dead, il gusto che mi hanno lasciato è esattamente lo stesso. Il gusto dell'ansia, dello sentirsi in un mondo stile in cui tutto ti vuole mangiare vivo e la cui unica possibilità di salvezza è stringersi in un l'altro cercando di resistere, l'essenza della cooperazione. No te lo giuro, l'ha tirata il gatto, è salito sulla terra, questa mi piace, l'ha tirata il gatto, l'ha tirata il gatto, va bene, va bene gatto. Ok, d'accordo, tutto bello, io però sono un pignolo, lo sapete, e se non trovo problemi non sono contento. Ed Eldivers 2 ne ha eccome di problemi. Regalare le stesse emozioni di Left 4 Dead, infatti, non significa essere a livello di Left 4 Dead. Eldivers 2 è un gioco che Mausa la mano qualche problemuccio ce l'ha, anzi forse più di qualcuno, e il modo in cui si sta comportando Harrowed a riguardo un po' il naso me lo sta facendo storcere, ma ci arriverò a breve. Premessa da giocare è divertentissimo, non solo per quanto riguarda le meccaniche cooperative, ma proprio parlando di quelle di shooting. Il gunplay è bello, soddisfacente, responsivo, il feedback dei colpi sui nemici è fatto bene e il modo in cui si smembrano fa godere come Ricci. Allo stesso tempo, però, Eldivers 2 è strapieno di piccoli bug. Non tanto roba che va a rompere il gioco o che lo fa crashare in continuazione, ma una marea di piccoli problemi che, messi tutti assieme, diventano veramente fastidiosi. Si va da comandi che talvolta non vengono presi, ad animazioni che si buggano senza motivo, a interfacce grafiche che, di punto in bianco, decidono di sbarellare completamente, passando per hitbox che ti fanno compenetrare nei momenti più sbagliati fra rocce e nemici morti o ti impediscono di entrare nella navicella dell'estrazione. Tutta roba che con un paio di tuffi e madonne si risolve, ma capite bene che se sei circondato da nemici e non riesci ad entrare sulla nave perché sei incastrato in un muro invisibile, potresti non avercelo il tempo per saltellare qui e lì finché non ti sbacchi. Ciò che però mi ha dato particolarmente fastidio è che molti di questi problemi ci sono fin dal lancio e in quasi due mesi non sono ancora stati sistemati, perché, a quanto pare, il team di sviluppo è impegnato a fare altro. Eldiverse 2 è infatti un game as a service, ma per una volta non lo dico in senso negativo, perché è l'esempio perfetto di come i game as a service dovrebbero essere. Diciamocelo, la maggior parte delle volte i giochi di questa tipologia sono titoli normalissimi con appiccicato sopra un battle pass, fatto per spillare soldi alla gente. Ma il game as a service non dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere un gioco che si evolve, che muta in continuazione, dando ogni settimana un motivo ai giocatori per tornare sui suoi server. Ed Eldiverse 2 questa cosa la sta facendo maledettamente bene. Dal lancio, infatti, sono stati aggiunti i mecha, alcuni stratagemmi e un nuovo tipo di nemici volanti e la cosa veramente simpatica è che ogni aggiunta è anticipata e contestualizzata a livello di lore. La guerra galattica, infatti, muta continuamente sia in base alle azioni dei giocatori, sia tramite le scelte degli sviluppatori, con settori che vengono persi e riconquistati, pianeti che diventano accessibili o inaccessibili ed eventi che contestualizzano le varie aggiunte. Lo sblocco dei mecha, ad esempio, è stato preceduto da un evento di conquista di un pianeta sul quale si trovavano le fabbriche per costruirli, mentre i nuovi nemici volanti sono dovuti ad un errore della superterra, che ha inondato di insetticida un pianeta, causando però una mutazione. In questi giorni, poi, sono sempre più frequenti segnalazioni di alcuni giocatori che riportano di essere stati uccisi da dei laser di colore azzurro. Il problema è che non c'è nessun nemico che spara laser di colore azzurro, tranne gli illuminati, ossia la terza fazione del primo Eldiverse, che stiano forse per arrivare? A mio modo di vedere è così che vanno gestiti i game as a service, sia tramite dei battle pass che tramite aggiornamenti continui e una comunicazione che tenga sempre sul pezzo i giocatori, creando speculazioni e mettendo hype sul futuro del mondo di gioco. L'unico appunto che mi sento di fare ad Arrowhead è questo. Ok inserire tutta sta roba, ma se vi prendete qualche settimana per sistemare i bug, anche a costo di rallentare con i nuovi contenuti, tranquilli che non soffende nessuno. Il comparto visivo è un altro elemento sul quale bisogna alzarsi e fare gli applausi al team di sviluppo, perché si tratta di un vero e proprio miracolo. Pensate che il gioco gira su BitSquid, un motore grafico del 2011, un engine che non è più supportato da sei anni. Questo vuol dire che Arrowhead ha dovuto compiere i salti mortali per renderlo compatibile con le nuove console e per dare al gioco un aspetto minimamente al passo con i tempi. E la missione è riuscita in pieno. Intendiamoci, se si vanno a vedere i dettagli, ci si rende conto della retratezza del comparto grafico. Texture e modellazione sono quelli che sono, la vegetazione non ne parliamo, eppure visivamente sto gioco mi ha lasciato più e più volte a bocca spalancata. Questi ragazzi hanno capito una cosa che molti studi ancora si devono ficcare in testa, ossia che un buon comparto di illuminazione e una saggia gestione del meteo possono stupire più di texture in 8K o fili d'erba tridimensionali. Gli scorci che offre Helldivers 2 sono da cartolina, e più di una volta siamo rimasti impietriti dinanzi ai paesaggi in mozzafiato che i vari pianeti ci mettevano di fronte. Anche in questo caso, la memoria torna a Left 4 Dead, che riusciva a mascherare le debolezze di un Source Engine con 5 anni sul groppone, con un comparto di illuminazione che, ancora oggi, fa la sua porca figura. La stessa identica cosa fa Helldivers. Ti piazza davanti a degli spettacoli, talmente imponenti da un punto di vista visivo che manco ti rendi conto della texture della roccia in bassa risoluzione. Credetemi, sul comparto grafico anche un pignolo come me non può che inchinarsi. L'unica cosa che effettivamente dispiace è che un engine così datato non abbia permesso al team di sviluppo di inserire le nuove tecnologie come Ray Tracing e DLSS, e quest'ultimo sarebbe servito dato che su alcune configurazioni il gioco risulta essere abbastanza pesantuccio. Non male nemmeno la colonna sonora, avrei preferito un pochino più di varietà, ma quando parte il tema principale, l'hype mi sale sempre. Helldivers 2, per il sottoscritto, è stato un vero fulmine a Ciel Sereno. Un gioco arrivato in un momento storico in cui il senso di schifo che provavo verso il genere dei game as a service era ai massimi storici e in cui la speranza di trovare un'erede all'E4Dead era ormai quasi del tutto scomparsa. Arrowhead Studio, invece, è arrivata a gamba tesa, ricordandomi con prepotenza che non esistono generi pessimi, ma solo giochi fatti male. Helldivers 2 non è un capolavoro, ma non vuole nemmeno esserlo. È un gioco che ha i suoi problemi, che presenta le sue limitazioni, ma che è fatto con cuore e giocandolo lo si percepisce costantemente. Se il team di sviluppo riuscirà a limare i vari problemi tecnici e continuerà a supportarlo a questo ritmo per i prossimi mesi o anni, potremo veramente trovarci dinanzi a una pietra miliare, a una pagina gloriosa e indelebile nella storia del medium. E il fatto che questa pagina la stia scrivendo un team come Arrowhead dai mezzi e fondi imparagonabili a quelli dei grandi colossi di quest'industria, non può che darci una boccata di speranza per il futuro dell'intero settore. Sì, è vero. Sì, è vero. Grazie.